come verrà combattuta la quarta guerra mondiale Einstein dice che non sai le armi con cui gli uomini potranno combattere la loro terza guerra mondiale ma probabilmente la quarta guerra mondiale verrà combattuta con le pietre e i bastoni perché la guerra avrà distrutto tutto ciò che di buono gli uomini hanno costruito nel tempo ciao al prossimo video vi aspetto ciao